del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E però, dovete fare così. Dietari che io, io, secondo la tua misericordia, il tuo grande amore trancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie cuore, ondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sa sempre di ansia. Conto di te, contro del solo peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo indizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo insedi la sapienza. Purificami con il soco e sarò montato. Lavami e sarò più bianco della nieve. Fammi sentire gioia e medizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato. Distoglio lo sguardo da te, riccati, cancella tutto il mio cuore. Crea il mio Dio, un cuore cuore. Rinnoma il mio Spirito salvo. Non restringe nella tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rennimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me, un'animo giudicoso. Insegnerò agli erranti le tue vie, e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal salvo, Dio, Dio, mia salvezza. La mia lingua tesanterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra, e la mia buca portami la tua rote, poiché non gradisci il sacrificio e se offro lo caos non gli accetti. Uno Spirito confido il sacrificio a Dio, un cuore affranto e miliato, tuo Dio non disprezza. Nel tuo amore fa grazie a Sion, rialza la lura di Genusalemme. Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'interno l'azione. Allora rimaneranno vittime sopra il tuo altare. Insieme. Gloria al Padre, ai figli e allo Spirito Santo, come era il vicino, lo poteva sempre, e il seno di Gesù. Amato. Grazie a me, Signore, che ci dò ora per quest'anno di vivere questo momento. E vorrei solamente così invitarvi a dire veramente con serietà, con intensità, queste prove di miserere. Per noi è preghiera, molto semplicemente, un esercizio estetico. Noi preghiamo, sono parole di Davide, sono parole di Dio. Io in quello che dobbiamo iniziare in queste prove, a tendenziare chi colore forse sono disponibili, però iniziamo sedi nel partecipare, perché se si fa il miserere, si fa il miserere. Quindi se ci sono delle prove, non è che poi, a un lato, a Roma, a tutti gli italiani, se ci sono delle prove, si fanno le prove del miserere. Cioè, penso che deve essere un impegno, e quindi in quaresi bisogna fare il miserere in qualche tempo. E questo deve essere un impegno, quindi, cioè, chi viene qua, chi viene mostrando le difficoltà, i problemi, c'è il mio di noi che partecipa, e che si sente avendo un punto d'onore tutte le prove, ecco, a partecipare, che penso che sia un impegno importante, perché cantare ci vuole anche disciplina, perché se si canta, si canta insieme, c'è bisogno di disciplina, di cantare insieme, e quindi si riavano il nostro un impegno importante da fare. Devo dire, ma io già sono così canta, ma io già vedo la volta. E se è così, non lo posso, cambiare il miserere, facciamo altro, se non provate. E quindi, non va a fare la prescrizione di che io già sono così canta, ma non va bene. Però se l'anno prossimo abbiamo un miserere dalla volta vostra, e così uno deve dare forze del proprio. E per questo, vogliamo, avendo un impegno e di ci viviamo, vogliamo e di più il Signore. Amén. Amén. Amén.